È il giorno della fiducia del Senato al nuovo governo. Il Premier Giuseppe Conte, arrivato a Palazzo Madama, non terrà il discorso introduttivo, come annunciato dalla Presidente Elisabetta Casellati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Professor Giuseppe Conte, ha consegnato il testo delle sue dichiarazioni programmatiche già rese alla Camera dei Deputati. Dichiaro aperta la discussione generale. Il dibattito, che andrà avanti per cinque ore, è cominciato fra qualche protesta e interruzione. La replica del Premier nel primo pomeriggio. Il leader della Lega, Matteo Salvini, interverrà in aula intorno alle 14.30. Matteo Renzi, invece, a quanto si apprende, non dovrebbe parlare. Il voto di fiducia inizierà alle 17.00.